Eleonora Mosco, la giovanissima vice sindaco, padovana, 27 anni appena, ma già un lungo percorso politico cittadino all'interno del consiglio circoscrizionale 1 Centro. Noi non viviamo anch'io come giovane per prima, a partire dalla problematica del lavoro, con una disoccupazione giovanile al 46%, direi che è uno dei primi punti da cui ripartire. Alessandra Brunetti, 40 anni, imprenditrice con delega al sociale e al nuovo referato Rapporti con gli enti religiosi. È un'attenzione complessiva a tutto il mondo religioso e le esigenze anche alla dimensione spirituale dell'uomo. L'ex notatrice Cinzia Rampazzo con delega allo sport, impianti e manifestazioni sportive già con progetti alla mano. L'impiantistica sarà da sostenere di più, ci sono molti progetti che so già e cercheremo di avviarne. La trevigiana 38enne Marina Buffoni di Fratelli d'Italia con delega alla trasparenza ai quartieri. Proprio dai quartieri debutterà il primo consiglio comunale. Il primo consiglio comunale è lunedì prossimo alle 18, partirà proprio da un quartiere, sarà probabilmente l'Arcella, stiamo adesso valutando dove c'è effettivamente anche logisticamente la possibilità di poterlo fare compiutamente. Grazie.